Abbiamo visto prima un 9-0, non ci sono stati in Coppa UEFA risultati di questo calibro, però la facile vittoria 4-0 della Eindhoven sull'Avenir Beggen, formazione lussemburghese, è una di quelle partite con scarti notevoli di valore tra una squadra e l'altra. McDonald, Torrensen, Van der Gaip e poi ancora Torrensen per il 4-0, sono gli autori dei gol della formazione della Eindhoven, che ottiene una qualificazione relativamente agevole, ha vinto per 2-0 all'andata e già 3-0 la fine del primo tempo con il gol di Van der Gaip che abbiamo visto e poi Torrensen ancora realizza il quarto gol per l'Eindhoven, PSV di Eindhoven.